Continuano in diverse direzioni le indagini degli inquirenti che stanno cercando di fare piena luce sul furto sacrilego che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha visto i gnoti portare via dal santuario di San Pietro della Ienca una reliquia contenente il sangue di Papa Giovanni Paolo II e un crocefisso. In particolare i carabinieri starebbero privilegiando due piste investigative. Da un lato il furto su commissione, reliquia e crocefisso non hanno valore quantificabile sul mercato ma sono reperti che potrebbero fare molta gola a collezionisti privati, non solo italiani e infatti nelle ultime ore gli uomini dell'arma starebbero battendo anche una pista che potrebbe portare fuori dai confini nazionali. La seconda ipotesi porterebbe invece ad una ritorsione nei confronti di Pasquale Corriere, presidente dell'associazione San Pietro della Ienca che da anni si batte per la valorizzazione del sito in chiave turistica. Gli investigatori per cercare di risolvere il mistero sviluppatosi nel santuario alle pendici del Gran Sasso starebbero anche vagliando una serie di tabulati telefonici continuando le perlustrazioni su stradine, anfratti e casolari vicini alla chiesetta dedicata a Papa Giovanni Paolo II e portando avanti l'audizione delle persone ritenute informate sui fatti. Secondo l'osservatorio antiplagio però non sarebbe da sottovalutare anche un terzo filone d'indagine ventilato nei momenti immediatamente successivi al fatto ma poi lasciato in secondo piano rispetto alle altre ipotesi. Si tratta del furto a sfondo satanico. Secondo il coordinatore nazionale dell'osservatorio Giovanni Panunzio la traccia non dovrebbe essere abbandonata per due ordini di motivi. Il primo è la data del furto arrivato al ridosso del primo febbraio, il giorno in cui si celebra il capodanno satanico e l'evocazione del demone Volac. Il secondo è l'attività complessiva dei gruppi dediti al satanismo sia in Abruzzo dove episodi simili sono già accaduti, ad esempio il furto avvenuto nel 2008 ad Avezzano, delle ceneri di fratto Masodacelano che nelle regioni limitrofe. Intanto dalle colonne del messaggero parla del fatto l'attuale arcivescovo di Cracovia, cardinale Stanislaw Diswitz, per 50 anni segretario di Papa Karol Vojtila. Dopo aver parlato di gesto incomprensibile, Diswitz ha lanciato un appello a coloro i quali hanno sottratto la reliquia. Vi prego, chi ha dell'alto prelato, restituite la prima della canonizzazione di Giovanni Paolo II.